Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati, benvenuti in una nuova puntata meravolante. Ieri qua da noi è successo di tutto perché in 40 minuti, prima la pioggia, l'uragano, la tempesta, il temporale, la grandine, un po' di neve e poi il sole. Tutto questo in 40 minuti, mettiamo, è proprio grossa, forse anche mezz'ora, mettiamo 40 minuti. Mi pare possibile? C'è qualcosa che non va in the universe perché non è normale. Comunque, detto questo, che non frega niente a nessuno, ma era solo per dare una constatazione amichevole sul tempo che si è un po' rimbambito. Parliamo, stasera ci sarà la Premier League, la terza serata, se non sbaglio, quarta, mi sono perso un attimo. E vediamo cosa avete votato voi su Bulldozer Darts. Allora, la prima partita che è tra Glenn Duran e Nathan Aspinall, avete votato Nathan Aspinall l'80%, l'11% Glenn Duran e il 9% pareggio. Allora, qua non si vede cosa ho votato io, quindi non me lo ricordo cosa ho votato. Allora, per essere onesto, vado a vedere su Bulldozer Darts chi ho votato io, perché sulla applicazione viene fuori chi ho votato. Ah, io sono il 9%, ho votato pareggio, non so se si vede, non si vede. Comunque, vedete che è sotto, è sotto 9, pareggio. Quindi, Glenn Duran e Nathan Aspinall hanno messo pareggio. Non so, perché Glenn Duran, ultimamente, dà fastidio, Nathan Aspinall non dà fastidio, quindi può essere che facciano un pareggio. Così, io, così, vado un po'. Nella seconda partita tra Rob Cross e Gary Anderson avete votato 19% Rob Cross, 60% Gary Anderson e 21% pareggio. Allora, io ho votato Gary Anderson, perché Rob Cross, non so, non vorrei dire come l'altra settimana, di Smith, non lo vedo molto bene, poi ha fatto la partita stratosferica, quindi non voglio dire niente su Rob Cross. Spero che vinca Gary Anderson, che ne ha bisogno, e basta, questo è quello che penso. La partita numero 3, comunque, 21% pareggio, siete in tanti che pensate che facciano il pareggio. Allora, Derry Gurney contro Michael Smith, 69% Michael Smith, 13% Derry Gurney, 18% pareggio. Io penso di aver votato Michael Smith, vediamo, non so sicuro. Sì, ho votato Michael Smith. Partita successiva, la partita numero 4, vado a scalare un pelo. La partita numero 4 tra William O'Connor contro NVG, 4% per O'Connor, 92% per NVG e 4% pareggio. Io ho votato Van Gerwen, lo sapete, quindi sono tra i 92%, vedremo, insomma, per un periodo un po' strano per Van Gerwen. O tira robe stratosferiche, o non tira, tira così così, poi arriva sempre lì, 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 ha fatto un 9 frecce l'altro giorno, quindi, insomma. Ultima partita della serata sarà tra Gary Price e Peter Wright. Questa è quella più, no, 21% pareggio, 21% per Gary Price e 50% per Peter Wright. Io penso di aver messo pareggio, adesso ve lo dico, pareggio, io ho messo pareggio. Vediamo quante ne becco stavolta. Poi, sulla chat, buddate dal chat, scrivete, io ne ho beccate 3 su 5, ne ho beccate 2 su 5, non abbiate paura. Io l'altra settimana, forse ne ho beccata 1 su 5, ditelo, tante, è un gioco così per stare in compagnia e vedere quanto noi possiamo beccare questa cosa. Comunque, stasera su DAZONE, la PDC con Premier League, queste sono le partite, quindi siamo a posto, qua c'è la, questa è la pagina di Bulldozer Darts, qui sono tutte le partite di fila, segnate, quindi avete tutto. Poi stasera a fine, a fine, a fine di partita mettiamo le schede, faccio vedere le schede di chi vince, di chi perde, tutto, i risultati, così avete tutto lì. Bene, detto questo, risponderò a un po' di domande. Allora, mi stanno arrivando così tante domande che io non so più a chi rispondere ragazzi, perché, non lo so, quindi rispondo a caso, perché ormai non so più, non mi raccapezzerò più. Ringrazio sia Marco che Federico che hanno detto che il Nodor è un buon bersaglio, che loro ce l'hanno e si trovano bene, quindi è bene, insomma. Poi rispondo a José, José, che mi scrive, ho comprato le Frecce Mission Reiki, che sono molto diverse dall'Agora, Green, con cui gioco al solito, perci darmi la tua valutazione. Bene, buona giornata e arrivederci. Buon, proviamo, prendiamo che tu abbia preso le 22, tanto più o meno il succo è sempre lo stesso, perché sono molto simili l'una dall'altra, non le conosco, quindi non ho idea. Siamo sul sito Dark Corner. Queste qua. hanno un bel grip, quanto più 51, sono lunghine, sono lunghine, ma hanno il peso che, come si dice, il punto di bilanciamento sia questo, perché qua è più, se da voi la vedete, vedete sopra dove ho la, questo, vedete, lì, qui dovrebbe essere il punto di bilancio, perché qua è molto più stretta, quindi qui è un po' più larga, sono un po' come le, le K-Deller, insomma, più o meno, eh, ma per capirsi, e quindi questo dovrebbe essere il punto di equilibrio, quindi se voi la tenete qua, tipo, guardate sopra, qui dove c'è la freccetta, non, l'ingrandimento sotto, qui dovrebbe essere da prendere circa, credo, ha una bella freccia, ne ho viste un due paia delle mission, sono belle frecce, fatte molto bene, quindi non costano neanche tantissimo, non è larghissima, perché 6,80, 51 lunga, insomma, è un sistema della mission molto bellino, poi ha il grip lock corto, questo qua è uno corto, è una letta, ma come è la gora verde, vediamo com'è la gora verde, giusto per curiosità, beh, prendiamo quella da 22, ok, queste sono dritte, 50, queste qua sono lunghissime, se tu hai queste, perché adesso non so, la gora verde sono queste, presumo sul 21, sono andato più o meno al 21, queste sono una freccia dritta, lunga, e va presa qua questa freccia, secondo me, presumo, in questo punto qua sopra, vediamo le altre, se sono diverse, perché questa qua è così, in questo qua cos'è, ma 24, non penso, l'ho presa 24, andiamo magari su 23, giusto così, per vedere una di più, perché le altre sono tutte più o meno simili, quella da 21 è la più dritta, perché pesa di meno, vediamo la 23, boh, è simile, è simile, bel lavoro, bella lavorazione, figata, proprio bella, peccato che il pesto verde, un po' va via, però veramente, bella, freccia lunga, dritta, vabbè, sì, sono delle frecce diverse, comunque, vi ricordo, visto che siamo sul sito Dark Corner, il sito online più grande d'Europa, che, se andate lì, avrete, potete usufruire, del, porca miseria, troppa roba qua ragazzi, il codice sconto Bulldozer 7, e quindi avrete, quando voi comprate, alla fine c'è il codice sconto, inserite Bulldozer 7, non potete comprare le cose Wimau, perché Wimau ha scontistica diverse, quindi non funziona, per tutto il resto sì, quindi Bulldozer 7, avete un piccolo sconto, quindi, questo risposto, c'era un'altra domanda, quindi sono un po' diverse, perché una più bombata avanti, l'altra è proprio dritta, è molto più lunga, l'altra è un po' più corta, basandomi sulle 21, poi ho visto un'altra domanda, puntini, 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 perché non c'è il nome, non c'è scritto niente, mi fa, ciao Ivan, hai mai fatto il conteggio sul giro dell'orologio, quanti punti fai di media tirando tre frecce per numero, includendo anche tre frecce al Bull, non c'ho mai fatto caso, ma fondamentalmente, non c'ho mai fatto caso, non lo so, ma fai conto che mi usciranno, totale, tutto totale, può essere che mi mi escono cinque frecce fuori, che io sbagli di cinque frecce, non penso che io sbagli di più di questo, cioè al conteggio totale metti un cinque, ma sei frecce che io sbagli, che non metta dove deve andare, sul singolo, perché uno, 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 due, 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 tre, 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 quattro, 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 può essere che alla fine di tutto un cinque, sei frecce le butti fuori, non lo so, non lo faccio mai questo, perché non ho bisogno di fare questo esercizio, visto che io le frecce le metto vicine uguali, quindi non è un esercizio che io faccio molto spesso, è un esercizio che serve all'inizio per cercare di tirare sempre nello stesso punto, ma io ormai al stesso punto lo tiro, quindi è un esercizio che io non faccio più, serve per quelli che sono all'inizio per abituarsi, ma insomma io un po' questa cosa non ho più questo problema, diciamo, poi quindi spero di averti risposto, perché comunque fai conto che in totalità butto fuori cinque frecce, sei frecce, non penso di più, insomma, se tu pensi che quello normale ha una freccia, che quello lo faccio sempre per scaldare il braccio su 21 frecce che servono per fare il giro dei singoli, ogni tanto faccio, insomma diciamo magari 23, magari metti che ne sbagli due, ma quando ho il braccio freddo sul braccio caldo non ne sbaglio uno, quindi poi volevo rispondere anche ad un altro ragazzo che mi aveva scritto, gli rispondiamo un po', ragazzi se poi se io non vi rispondo riscrivetemi perché veramente sono veramente tantissimi messaggi e dopo un po' mi perdo, non so più, cioè non so più, perché non capisco più una fava, mi arrivano messaggi da tre parti, poi c'è qualcuno che mi scrive su Instagram, qualcuno che mi scrive su Facebook, io Facebook lo uso pochissimo, quasi nulla, non lo apro quasi mai, solo quando vedo che c'è qualcosa che mi ha, però lo uso poco, Instagram lo apro un po' di più, ma quindi mi arrivano da Instagram, mi arrivano da YouTube, mi arrivano sulla mail, mi arrivano piscano a fava io ragazzi, dopo un po' non so più, datemi una mano, mi scrivono su Telegram manetta, perché manetta, allora complimenti, questo qua è Force 291, scrivete Mario Pistoni, perché dovete scrivere questi nomi assurdi, va bene, allora, sei un grande, grazie, perché vedo che metti, grazie, torniamo a noi, amici e ragazzi, vorrei ricominciare, mi consegna un bersaglio delle fraccette, Force 291, ti sei risposto da solo perché io preferisco l'unico, però anche Nodor, ho notato che è un buon bersaglio, poi se anche Federico che è una persona di cui mi fido, mi dice che è un buon bersaglio, e anche Marco, tutti e due mi fido di loro, e poi l'ho provato, mi sembra buono, non so la durata sotto le mie mani, perché sotto le mie mani, è un po', io preferisco l'unico, però, sarei tentato di provare il Nodor, più che non comprare un altro Wimau, per dire, sai magari, sai magari due tipi di diversi, vedete, beh, guarda, caro Force 291, ho detto Mario Pistoni, sono dei nomi, intanto, K729, io, guarda, se non vuoi spendere tanti soldi e vuoi ricominciare provare frecce nuove, io ti consiglio, scusate, non ho nessun virus, è tosse da fumo, porca miseria, allora, io, fossi in te, visto che devi ricominciare, andrei sulle mission, perché sono frecce che sostanzialmente, sono frecce che pesano, che non costano tantissimo in confronto ad altre, e sono fatte molto bene, poi, su quello che tu preferisci qua, non lo so, dipende da dove tu prendi la freccia, questo non me l'hai scritto, però, prendi una freccia magari lunga, che sia da prendere, magari, posteriormente, dritta, come può essere, non so, tipo queste qua, le DV Impact, che sono dritte, questo qua sicuramente con la presa anteriore, quanto è lunga? 54, quindi questa va presa qua sicuro, per non dire che va presa qui, questa, ma questo qua è sicuramente posteriore, senza ombria di dubbio, la freccia dritta, un bel grip normale, non è un freccione UFO, ma insomma, non è male, costa poco, poi, e non so, questa qua, vediamo com'è, questa qua è 26 grammi, è pesantissima, ma sto per vedere, questa è una bella freccia, 54, questa qua è molto, molto lunga, questa qua sarà da prendere qua, presumo, perché sono frecce lunghe, mi sono venute, questa qua è una freccia corta, ad esempio, vediamo che freccia è questa, questa qua pesa 30, questa qua è gigantesca, qualche miseria, quanto pesa, 23 grammi, sì, ma qua davanti ragazzi, scusate, metto qua, qua davanti veramente larga, questa qua sembra un po' a quella che aveva avuto per un periodo Peter Wright, no? Quindi per cui è molto simile a quella che aveva Peter Wright, forse era giusto un pelino più lunga fino qua, ma è molto simile, prima l'hanno copiata da quello, ho preso l'idea da quello, ne prendi due che ti possono andare bene, che ti piacciono, che siano diverse, delle mission, siccome sono buone frecce, non costano tanto, o se no anche, vediamo, le Aros, non so, è un slavino di tempo che non vedo come sono le Aros, dovrebbe essere costare anche poco, lascia stare quell'imbras chiaramente, che sono robaccia, ci sono robe così proprio, vediamo questo, vado a caso, quanto qua? Anche queste qua costano poco, cerca tu un po' di prendere due che non costano tanto, giusto per prendere, che sono veramente diverse, come, è così, comincia a capire qual è la freccia più giusta per te, come ho sempre detto, perché poi non è che posso io dirvi, secondo me quella freccia lì è fantastica, perché per me la Van Gerwen, della Esco Max è fantastica, ma per me, magari a voi non mi piace, l'ho fatta lunghissima ragazzi, quasi 20 minuti, scusate, mi sono fatto prendere dalle varie discussioni, ho risposto a un po' di gente, vi chiedo scusa, sono tirato un po' a lungo, ma stavo parlando, stavo controllando, insomma, comunque, ho le Aros, sono anche le Aros buone frecce, alla fine, sono tutte belle frecce, non è che ci sono brutte frecce, no, ce n'è, di brutte frecce, dipende di cos'è che vi piace, tutto lì, anche quelle da Esco Max sono mega brutte per dire, Benito Van de Pas, c'è una freccia allucinante, vabbè, comunque detto questo, prova un po' di frecce diverse, compra magari cose che costino poco, così le prendi anche due o tre paia, invece che prendere un paio, frecce che costano, io ne ho presa una che costava a 17 euro, è una freccia che funziona benissimo, cioè, fondamentalmente non è il prezzo più che altro, più che altro è, come si dice, quanto sta bene a te, può essere che tu prendi un paio di frecce che costano 15 euro e ti vanno da Dio, tu prendi quelle da 120 e non ti vanno bene, perché dipende come la senti in mano, caro Ford 291, vabbè, chiudo, stasera a PDC, Premier League, statemi bene, iscrivetevi al canale Telegram Bulldozer Dust per sapere tutte le varie cose, per votare anche la Premier League, insieme a noi vediamo chi ne prende di più, saluto a tutti.